Ciao a tutti amici di Jovatec, oggi voglio mostrarvi come effettuare un hard reset su un dispositivo Android e in questo caso su l'Huawei P8 Lite, single SIM. Per hard reset intendiamo quindi ripristinare il dispositivo ai livelli predefiniti di fabbrica, in poche parole come se lo stesse accendendo per la prima volta. Per effettuare un hard reset solitamente Android usa una combinazione di tasti che sono volume su, il tasto home e quello power di accensione. In questo caso l'Huawei P8 Lite non ha il tasto fisico della home, solitamente posto qua verso il basso, ma è un tasto virtuale software, quindi per entrare in modalità recovery per ripristinare il dispositivo si utilizzano solamente i tasti volume su e quello power di accensione. Previamo contemporaneamente quindi il tasto volume su più accensione fino a che il dispositivo non partirà e entriamo nella modalità recovery. Dopo qualche secondo molliamo e adesso siamo entrati nella modalità recovery dove si avrà a disposizione una serie di tasti reboot system now, quindi per ritornare indietro e non effettuare nessuna opzione, wipe data factory reset e wipe cache partition. Per ripristinare facciamo prima un wipe data e diciamo quindi di confermare wipe data reset. Una volta finita qua la procedura di caricamento andiamo ad effettuare anche i wipe cache oltre a questi data factor e eseguite queste due manovre si andrà poi ad avviare il sistema operativo nuovo come se fosse appena uscito di fabbrica. Adesso una volta effettuati entrambi i wipe facciamo reboot system now. Questo primo riavvio una volta effettuato il ripristino di fabbrica richiederà qualche minuto prima dell'accensione quindi non spaventatevi se il sistema non riparte immediatamente. Adesso ci verrà richiesto quindi di ripristinare il dispositivo con le classiche impostazioni di fabbrica come se l'avessimo appena comprato e dopo di che il nostro dispositivo avrà cancellato quindi il tutto e avremmo a disposizione un sistema pulito e formattato. Grazie a tutti alla prossima! Grazie a tutti!